segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te o perché il giorno delle elezioni berlusconi dice sostanzialmente due cose una giorgia meloni ha fatto una cosa che io non avrei mai fatto quindi io leggo magari sono io maliziosa ma mi pare che dica giorgia meloni ha sbagliato due zelensky è quello che ha creato problemi e quindi la tesi di putin perché dice una cosa di questo tipo al di là del fatto che forza italia poi vota come voi e diciamo con gli alleati europei della nato però dice delle cose gravissime ed è berlusconi un uomo con una straordinaria storia politica comunque la si pensi sono d'accordo però bisogna dividere i due momenti una cosa è la dichiarazione di berlusconi che magari sotto la spinta emotiva di un particolare momento può dire cose che il politicamente corretto suggerirebbe di non dire ecco mi lasci mi lasci fare questa considerazione il ministro taiani diceva molto onestamente berlusconi ha parlato a titolo personale altra cosa è la condotta politica di forza italia quindi della creatura di berlusconi che in consiglio di ministri vota con la sua rappresentanza assolutamente alla unanimità magari si discute per carità un determinato argomento viene approfondito ma tutti in consiglio di ministri votiamo allo stesso modo quindi l'intervento del presidente berlusconi che ha un'ansia di pace come credo possa animare e contagiare ognuno di noi esatto e al di là della pregressa amicizia con putin ma io credo che la posizione dell'italia e quindi anche di forza italia sia quella di stare con zeleschi di stare con l'ucraina quindi ministro musumeci lei dovesse parlare ai nostri interlocutori europei direbbe ignora ciò che dice berlusconi no ognuno quello che dice è chiaro che lo dice per essere ascoltato e si assume la responsabilità di quello che dice ma se lei me lo pone sul piano delle scelte politiche o peggio ancora delle scelte governative io le ho già risposto berlusconi ha parlato a titolo personale e il suo partito e i suoi ministri quelli che ha indicato si sono comportati in maniera assolutamente diversa debbo quindi concludere che il presidente berlusconi abbia avuto una uno sfogo dettato da una spinta emotiva che magari in altri momenti qualcuno avrebbe evitato ma non ci trovo nulla assolutamente di grave la posizione della premier meloni è chiara e condivisa da tutti e condivisa dalle altre potenze europee io credo che non ci sia soluzione tutti dobbiamo cercare la pace diplomatica ma non possiamo pensare di arrivare al cavolo della pace con un con una nazione l'ucraina assolutamente soccombente rispetto all'invasione della russia e alessio che succede chi non